Ed eccoci per una nuova puntata di City Report, oggi vi portiamo nel municipio 6, siamo in via Lorenteggio 170 e vi facciamo vedere che non è il problema solamente delle case popolari che viene evidenziato direi da decenni, ma c'è anche un problema delle proprietà che poi sono passate al comune di Milano come questa, che rimangono vuote, abbandonate, creano disagio e comunque creano una situazione di abbandono che le persone normali non vorrebbero vivere poi vedrete le immagini di Paolo Rusconi saluto il nostro amico che è qua con noi, presentati ciao, sono Francesco un rapper di Milano ok, è venuto con noi a vedere questa situazione, abbiamo con noi anche un cittadino che ci racconterà un po' meglio quello che succede, adesso vado a fargli due domande, siamo qui con un cittadino che abita nei pressi, che ci racconterà meglio cosa sta succedendo qui, in questa zona già traumatizzata dalla costruzione delle nuove metropolitane, sarà la prima domanda che gli faccio com'è cambiata questa zona dalla costruzione delle nuove metropolitane guardi, le strade che sono state chiuse hanno subito un degrado immenso perché sono diventate territorio di nessuno significa che in questi spazi dove magari si vede passare una camionetta o una macchina polizia che le dà un'occhiata e poi va via, le persone che lo praticano sono abituate a sistemi diversi da quelli, diciamo, del buon cittadino si fermano per strada fino a notte tardi urlano, gridano, bevono birre, rompono bottiglie qualche volta sono intervenuto perché cominciavano a fare le grigliate per strada si rincorrono, giocano a pallone la strada è chiusa e è diventato territorio di chi lo vuole usufruire non ci sono regole, non ci sono fermate non ci sono auto con parcheggi giusti ognuno parcheggia dove vuole quando fanno il mercato non si riesce a girare quando arrivano i camion che non sanno che il giovedì è chiusa la strada e quindi non hanno sbocco devono tornare indietro e trovano macchine parcheggiate per tutto quindi spesso capita che ci si riunisce più persone e le si solleva per riuscire a fare spazio al camion se no non riesce a fare manovra per tornare indietro, tutto bloccato Ok, per i nostri amici che non sanno bene dove si trova il mercato il mercato è quello a fianco a quello comunale che viene fatto nella via Audazio ti faccio un'altra domanda ci puoi raccontare in breve la storia di questa costruzione e i vari passaggi? Tutte queste costruzioni erano un tempo del demanio poi in parte con la privatizzazione sono state vendute i cittadini che li abitavano e ne usufruivano io stesso ne ho avuto questa possibilità e l'ho acquistata questa che abbiamo qui al 170 è una costruzione passata da un meccanico a un individuo si ma individui anche in Poloschi che offrivano ospitabilità a Zingari qui dentro c'erano roulotte camper e in cambio di mano d'opera e aiuti vari è probabile che c'era anche dello spaccio perché un giorno sono venuti a farne arretata hanno portato via tutto e da quel momento è diventata abbandonata anche qui prima ci entravano i ragazzi a fare partite di pallone o rincorrersi a giocare alla guerra a loro pericolo visto la struttura io ho fatto presente la cosa alle competenti autorità che hanno mandato una squadra a sigillare, a chiudere a saldare tutti gli accessi e poi adesso intervengono ogni tanto a fare una pulizia all'erbace se no sarebbe un bosco però ugualmente in stato di abbandono Ti posso dire quanto è grande questa proprietà? Perché molti ci hanno detto va beh ma sembra una roba piccolina si fa subito a metterla a posto a venderla eccetera ma quanto è grande in realtà? A parte che la struttura non è da mettere a posto è da abbattere perché è fatiscente e comunque i metri quadri di terreno saranno circa 700-800 ecco all'incirca dietro c'è un altro spazio che però cura parchi e giardini e là è già diverso perché c'è un interesse da parte delle scuole che vengono ogni tanto a fare musica è un giardino curato questo è abbandonato ogni tanto viene qualcuno che dice che si è aperta una gara d'appalto che devono comprare perché è edificabile quindi vorrebbero costruire però credo che stiano aspettando una definizione del metro perché così si riapre la strada e si valorizza il tutto quindi diciamo che l'arrivo del metro ha creato un sacco di disagi e forse ha anche rallentato l'assegnazione comunque il fatto che qualcuno possa comprare questa proprietà ti faccio un'ultima domanda poi ti lascio libero e ti ringrazio della tua disponibilità ma adesso il problema più grosso quindi qual è con questa struttura? Penso che a breve dovrebbe finire spero perché una volta che riaprono la strada e che come si spera venga acquistato da una società costruttrice venga demolita e fatta una struttura come si deve che valorizzi un po' la zona tanto quanto perché tutti credono che col metro adesso diventi una zona ricca chissà però abbiamo un'esperienza a Corvetto dove è arrivato il metro e mi pare che il degrado è continuato non posso che concordare col signore perché comunque siamo stati diverse volte a Corvetto e Corvetto ha delle problematiche che massimizzano questa ma soprattutto quella che abbiamo alle spalle che è parecchio noiosa va bene io ringrazio il nostro ospite che comunque fra l'altro è una persona che si dà da fare l'abbiamo trovato che stava lavorando non vi diciamo cosa stava facendo per il bene collettivo perché non era dentro la sua proprietà bensì fuori le bottiglie e i rifiuti che vengono lasciati dalle persone incivili la possiamo dire una cosa è la questione dei minimarket cioè adesso questa questione dei rifiuti delle bottiglie dell'alcol delle feste è aumentata da quando avete una nuova attività? certo da quando c'è questa attività da circa un paio d'anni qui è un continuo acquistare a 1,50 euro una birra da 66 a 1,50 euro tutti vengono qui la sera si trattengono gridano urlano giocano scherzano disturbano e se devo essere di parte vengono a urinare sotto casa mia direi che sono tutte cose che non andrebbero fatte anche perché la normativa prevede che non vendano alcolici come tutti gli altri negozi che sono presenti sul territorio qualcuno chiude l'occhio ecco noi ricordiamo a chi sta chiudendo l'occhio perché dice che è impresa perché le fanno determinate etnie che la legge deve valere per tutti e come diciamo tutti tutti italiani e non va bene un saluto al nostro amico che tanto non vedete gli stringiamo la mano ok grazie e continuiamo con questa situazione di via Lorenteggio che però si estende a di là delle case popolari alla questione dei metrò i nuovi metrò che stanno arrivando qui ma quanti problemi stanno portando e voi avete visto nelle scorse settimane perché c'è incurie c'è abbandono non c'è nessuno che li controlla parliamo con una signora che abita qui da molti anni che giustamente preferisce non farsi vedere per via di tanti motivi che potete immaginarvi signora ma questo metrò da quando è qui le ha portato qualche giovamento tanto disastro ma tanto guardi è una cosa incredibile non possiamo più uscire perché praticamente c'è una figlia che abita a Vigeva non può entrare adesso che abbiamo i bigliettini da attaccare vicino e dobbiamo andare a pagare la tassa al comune che adesso vuole andare a fare il buon perché nel frattempo nonostante tutto il caos e il disagio che c'è hanno messo le strisce a pagamento hanno messo le strisce a pagamento da un momento all'altro non possono né ricevere io abito da sola sono vedova e pensi un po' se non arrivasse mia figlia sto rumore non si dorme la notte passa il trenino qua sotto che va fino a Washington che porto gli operai ma insomma cosa stiamo facendo? io non sto più dormendo guardate addirittura la mia porta di casa che è porta blindata è scesa di 3 cm e direi che le aggiungo una situazione che magari lei non conosce altri cittadini che abitano in zona in via Segneri hanno avuto problemi nelle cantine di allagamento ma allagamento che se non delle piscine parliamo di un metro un metro e mezzo ce l'ho anch'io se venite giù dalla cantina mia non si può entrare un odore poi signora mi scusi in che palazzo sta? qui alla scala 179 scala B va bene potremmo anche venire a darci un'occhiata puoi venire ti apro io la cantina perché io ho la chiave l'Ale abbiamo fatto il rapporto mi ha detto che manderà qualcuno ma sono sette mesi che non viene nessuno quindi lei ha chiamato Aler al suo numero ma non è venuto nessuno nessuno né a giustarmi la porta né a fare qualcosa ma allora cosa dobbiamo fare? quando dobbiamo aspettare ancora? ma lei signora mi scusi una domanda no? perché qua quando si parla di sta zona dicono sempre abusivi gente che non paga eccetera io credo che signora lei lo paga la fitta credo guardi sono 60 anni la casa è mia e invece devo darlo da loro prima pagavo addirittura 500 euro al mese perché avevo tre figli che lavoravano portavano a casa adesso paga 218 euro sono sola e sono vede con 600 euro della visibilità di mio marito e i danni che si ritrova oltre che vivere in una situazione tutti i giorni io non dormo figlio mio mi devi credere non sto andando ancora alle medicine al tavolo perché ho paura ma io non dormo non vedo l'ora che mi danno la casa tutti i mesi mesi prossimi ora si parla 2020 siamo a posto spieghiamo perché hanno promesso a queste persone siccome molti stabili andranno abbattute che gli daranno una nuova casa poi dobbiamo vedere lo dico io lo signore lo sa meglio di me se poi gli pagheranno anche le spese per spostare tutte le varie cose dicono di sì dicono però io se non vedo non faccio va bene per ora ci fermiamo qui e seguiteci andiamo avanti cari amici siamo al 179 di Lorenteggio andate a vedere le scorse puntate siamo stati al 181 in tutto il quadrilatero questo è uno di quegli stabili che ha condizioni pietose e ancora qui si ha il coraggio di chiedere soldi alle persone per viverci una cosa già indecente di questo siamo qui con un cittadino che abita qui non vi diciamo come si chiama però ci può raccontare la situazione che si vive qui e tutto quello che capita raccontaci insomma delle cantine dei balconi ma stiamo vivendo con i topi come vedete i balconi sono in condizioni pessime le condizioni che abbiamo diciamo che si vede molto ma questi balconi hanno perso dei pezzi sì no stanno cadendo dei pezzi dai balconi come si vede ci si ha paura anche di camminare perché non si sa mai specialmente da quando hanno cominciato a fare i lavori della metropolitana è stata una cosa impressionante io ho avuto delle crepe in casa nessuno che è mai venuto e gliele segnalate le crepe in casa non viene nessuno anche se segnaliamo non c'è uno che quindi diciamo al comune di Milano al presidente dell'Aler che poi vanno sui giornali a dire che le situazioni sono tutte sotto controllo o le stanno sistemando che mi sembra che vedendo queste situazioni è vero che queste case dovranno essere abbattute però le persone le vogliamo far vivere in una condizione civile oppure diciamogli chiaramente sopportate questa situazione ma leviamogli il costo almeno del canone perché farsi pagare il canone per una casa che dovrà essere buttata giù in condizioni pietose e poi un'altra situazione ancora metropolitana e milanesi quando fa con tutti questi grandi ingegneri strapagati fanno tutti questi progetti ma si rendono conto di dove fanno passare gli scavi perché qui abbiamo già trovato tre sotterranei totalmente pieni d'acqua delle piscine parliamo di segneri parliamo di lorenteggio eccetera eccetera andiamo avanti eccoci non vi posso dire l'odore che c'è qua dentro di acqua reflua si vede dalle pareti insomma dalle immagini che vedrete una discarica abbiamo trovato diversi topi morti ma proprio decomposti anche schiacciati quindi non è che sono qui da un giorno ci chiediamo chi dovrebbe sorvegliare queste proprietà che così celere nel mandare da pagare l'affitto alle persone come mai non viene a controllare queste situazioni camminiamo chiaramente molto piano queste sono le cantine stracolme di roba questa non diciamo che è colpa di aller che le cantine sono colme è colpa magari più che colpa responsabilità di chi gestisce l'immobile di non averle svuotate perché ci sono delle persone che qua ci vivono lascio spazio a Paolo Rusconi con le sue immagini stiamo entrando in una cantina che il signore che abita qui purtroppo anche avendola sistemata si ritrova in queste condizioni puoi anche aprire la porta se possiamo fare un po' di luce scusateci ma purtroppo qui diciamo che è la cantina più bella che ho visto qui all'interno si vede che la persona che ce l'ha la cura peccato che mezzo metro d'acqua topi e escrementi e rifiuti intorno non è che la migliorano anzi io l'ho piastrellata l'ho messa a posto poi c'ho le mie cose che ho dovuto buttare come vedete anche qualche mobile che era nuovo poi c'ho degli attrezzi tante altre cose che maggior parte sono dentro ma oramai non insomma tu invece di avere un vantaggio di avere la cantina che la tieni anche in maniera eccellente ci hai avuto dei danni esatto e anzi l'haller mi ha obbligato di mettermi la da solo questa porta l'ho comprata io questa porta l'ho messa io a posto che è l'haller proprio come la casa come la casa che io ne ho speso un casino di soldi che ho messo a posto così anche la cantina me le hanno date tutte in condizioni inguardabile e adesso ti chiedono anche magari di andare via dopo che ti sei sistemato esatto dopo tutti questi anni perché ci sono insomma la casa purtroppo è intestata a mio papà che è morto a settembre 2 di settembre che io ho curato per tre anni purtroppo e così via capisco benissimo ho dovuto adesso sicuramente l'haller purtroppo io non avendo lavoro adesso al momento prendo 237 euro di reddito di cittadinanza che mi auguro che il governo adesso metteranno a posto anche queste cose qua sperando di darci un lavoro veramente insomma però è la prima volta che qualche soldo in tasca di cittadini arriva esatto sì esatto è prima volta che vabbè io non ho mai avuto sinceramente bisogno perché ho sempre lavorato ma adesso da un anno passa che non lavoro è prima volta che ricevo finalmente qualcosa anche se è poco ma qualcosa mi arriva soltanto che io l'affitto non riesco a pagarlo guarda hai detto una cosa io mi aggancio a quello che appena detto io ho sentito un sacco di persone che grazie a reddito di cittadinanza stanno mangiucchiando qualcosa attenzione non state a sentire quelli che vi dicono nulla facenti poltrone eccetera perché non è una questione uno che ha dei soldi non vive in una situazione del genere e questi soldi che gli stanno dando in parte gli sta spendendo anche per gestire la casa quindi è una spesa in meno che lo stato il comune il gestore delle case ha quindi pensateci bene quando dite che sono tutti nulla facenti quelli che prendono i reddito di cittadinanza perché vi stiamo dimostrando di volta in volta che la situazione non è questa e il fatto di voler schiacciare chi sta peggio non vi rende migliore pensateci siamo arrivati all'ultimo piano stiamo andando a vedere un appartamento che ha subito dei danni per la metropolitana le vibrazioni sappiamo che in tutti i quartieri persino nei quartieri del centro VIP stanno succedendo queste cose per le mancate manutenzioni dei binari eccetera parlo di piazza argentina Corso Buenos Aires qui invece siamo addirittura a questo punto che per evitare le occupazioni dei solai degli spazi liberi ai piani di sopra cosa avete dovuto fare? stiamo bloccando abbiamo bloccato una scalinata una scalinata perché abbiamo abbiamo già avuto dei problemi nel passato che sono saltati da un balcone all'altro sono entrati nell'appartamento e hanno occupato io a quel periodo avevo mio papà che era malato perciò non potevo avere dei problemi del genere allora ho fatto di tutto per farli mandare via e abbiamo bloccato siamo arrivati all'ultimo piano passando questo blocco che è stato fatto dai cittadini per impedire l'occupazione degli appartamenti al piano di sopra vediamo che dal soffitto si vede chiaramente che manca la luce le crepe sono incredibili fra l'altro questi appartamenti al piano di sopra ci sono stati detto che sono disabitati anche se c'è un materasso tra uno e l'altro che fa capire che c'è qualcuno che ci tentava o ci ha dormito qui esatto ma questo appartamento qui che vediamo addirittura uno con la targhetta ancora attaccata sì questo appartamento è stato abbandonato dal vecchio inquilino perché pioveva dentro di rotto e l'Aller non sono venuti neanche a vederlo loro sono stati costretti ad abbandonare come anche questo qua la stessa identica cosa la porta e la strada però siccome la signora che c'era prima che era una signora ha fatto di tutto a farsi dare un altro appartamento in cambio e hanno chiuso che poi è stato occupato e abbiamo fatto di tutto di farli andare via e poi l'hanno chiuso e purtroppo siamo costretti come vedete a fare queste cose che ti volevo chiedere l'ultima cosa perché non ti voglio più rubare tempo sei stato gentilissimo e ti ringraziano anche tutti gli spettatori che ci tengono a far vedere la Milano vera come sta questo materasso non è arrivato qua per caso no 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 sicuramente no qualcuno l'avrà portato poi come vedete noi abbiamo cercato questa parte qua non sono riuscito a sbiancarla ma la parte in basso abbiamo fatto abbiamo cercato noi inquilini che siamo in tre adesso in tutta la scala tre perché gli altri appartamenti invece sono tutti vuoti perciò siamo sempre a rischio di occupazione tutti i giorni viviamo proprio con la paura ecco ricordo che siamo a Milano via Lorenteggio 79 municipio 6 nella famosa città che ha vinto il primo premio per la qualità della vita secondo il sole 24 ore ed è quella che ospiterà le miliardarie in euro olimpiadi invernali e abbiamo delle situazioni del genere complimenti andiamo avanti siamo nella casa di questo signore che ci ospita che ci sta facendo vedere i suoi problemi che problemi c'hai? ce ne vedono tanti allora io il bagno quando hanno fatto i lavori di metropolitana sotto mi sono venute giù le piastrelle io avevo coperto il tubo dell'amianto che c'è perché vivendo con l'amianto in casa non è che fa piacere allora io ho fatto di tutto di coprirlo con le piastrelle piastrellarlo come avete visto le immagini ma con la metropolitana mi è venuto tutto giù hanno cominciato le crepe sui soffitti e nessuno non si è degnato neanche di venire a guardare ecco questo tanto per parlare il gestore che è responsabile della sicurezza dei palazzi in questo caso è Aler potrebbe essere chiunque noi lo diciamo lo stesso perché per noi non c'è bandiera c'è la funzionalità e la vivibilità degli luoghi abitati questo non è un luogo dove si può vivere bene civilmente in maniera decorosa poi vi ripeto sappiamo che questo palazzo deve essere buttato giù però cosa facciamo nel frattempo le persone le facciamo soffrire l'amianto le facciamo ammalare gli chiediamo anche l'affitto perché chiaramente ti devi ammalare anche a pagamento noi non ci stiamo non è così che deve andare avanti la nostra nazione andiamo avanti municipio 6 abbiamo finito il nostro sopralluogo abbiamo visto la via Lorenteggio lato sinistro lato destro le case popolari e le strutture comunali abbandonate siamo insieme a Diamond Frank che tutti conoscete per le sue canzoni che parlano appunto di tanti problemi che ci sono in questa società e che ci accompagna molto spesso una tua opinione per i nostri amici che ci guardano di quello che hai visto oggi è brutto far vivere le persone così bisognerebbe aiutarle vivere in queste situazioni è veramente degradante soprattutto per persone oneste che tendono sempre a dare anche una mano al prossimo perché abbiamo visto un ragazzo che si dà molto da fare nella società e viene trattato così non sono cose belle e giuste ecco penso che ha detto tutto lui purtroppo le situazioni che si vedono a Milano non sono quelle delle pagine patinate dei nostri amici che stanno nei palazzi del potere che fanno le loro diatribe per cambiarsi le poltroni uno la vuole in pelle e l'altro la vuole ancora meglio per oggi vi salutiamo con le immagini di Paolo Rusconi alla prossima seguiteci Tullio Trapasso City Report un mio testo di cosa vuoi che parla vita di merda problemi perdita della calma nella scena tutti i gang sa fatti di bamba la mia psiche ballerina è la mia arma ogni promessa infranta aumenta la mia rabbia un animale si ribella quando lo chiudi in gabbia non voglio stare agli ordini di nessuno un animale si ribella non voglio stare